Una vittoria da sempre morale. Dopo la vittoria di Avezzano, gli uomini di Mister Paba si ripresentano sul sintetico di Veleon Cavallo e riprendono a lavorare. Sapevamo andare poi a trovare una squadra arrabbiata perché riduce da due sconfitte, quindi sapevamo che sarebbe stata facile, ma l'abbiamo interpretato nel modo giusto, cambiando un po' l'atteggiamento e direi che ne abbiamo avuto i frutti perché comunque facciavano molta difficoltà a venire in area nostra perché ci coprivamo bene e poi sapevamo che potevamo fare male o le ripartenze e ci siamo riusciti. È stata anche questa domenica la conferma che nonostante le assenze abbiamo comunque tutti i ragazzi pronti che si impegnano al massimo durante la settimana e sono fatti trovare i pronti, ci hanno dato una grossa mano questa domenica. La strada è lunga però i presupposti ci sono tutti per poter far bene. Squadra coesa, l'abbiamo detto dall'inizio, giovane, volenterosa. Sì, quella sicuramente è stata sempre la nostra forza, l'affiattamento del gruppo e quest'anno sarà sicuramente l'arma fondamentale per raggiungere la salvezza il prima possibile. Dobbiamo continuare così, penso, avere fiducia e credere nelle nostre potenzialità e sono sicuro che possiamo fare bene.